Martedì 25 maggio, buongiorno, ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV, questa è Occhio i giornali, il commento alla stampa, la rassegna stampa del mattino alle 7 puntuali come sempre sul canale 17 di FanoTV e cominciamo come sempre con il santo e poi il tempo, il santo di oggi è Santa Maria Maddalena De Pazzi, il sole è sorto alle 5.34 e tramonterà alle 20.41, adesso guardiamo il tempo. Lo sguardo al meteo con il sito della protezione civile delle Marche, per oggi c'è uno sereno o poco nuvoloso, per domani lo stesso cielo sereno o poco nuvoloso, stessa cosa giovedì 27 maggio, cielo sereno o poco nuvoloso. Andiamo adesso a vedere i giornali, cominciamo dal Corriere Adriatico, edizione di Pesero, Mazzolari, Mosca, la rinascita, questo è il titolo, un progetto da 8 milioni per lo storico Palazzo di Pesero che oggi ospita gli uffici dell'amministrazione comunale, fondi da intercettare con un bando ministeriale. Centropagina, Lanterna Azzurra, 40 parti civili, strage di Corinaldo e i colletti bianchi dal GUP. Ecco i manager per le aree vaste, da Moraldo fino alla Corsi, mentre sotto la Vis ha fatto la sua scelta, Bianchini nuovo allenatore. Ma la pagina del Carlino di Pesero, Corinaldo, 8 chiedono lo sconto, Lanterna Azzurra, il nodo sicurezza, i proprietari dell'immobile, i gestori e un DJ hanno chiesto riti alternativi, hanno scelto riti alternativi. Poi palestre pronti via, finalmente la riapertura e c'è chi è arrivato alle 6 del mattino. Poi manca la voce Johnson, Johnson il vaccino, nel prestampato, file e proteste all'ex Risto di Pesero. La denuncia dei sindacati, paura contagi controlli zero nelle fabbriche, così si rischia. Ancora ignoti i tre esecutori della rapina al Troni, ma sono stati condannati il Palo e il Basista. In Serie C ha allenato in Oceania, la Vis riparte da Banchini e per quanto riguarda la VL il coach, la Rosa è ristretta adesso a tre, probabilmente, insomma nei prossimi giorni si saprà il nome. Intanto il Carlino di Ancona, vogliamo la verità, sono le parole del sindaco di Corinaldo Matteo Principi, ieri mattina al Tribunale di Ancona, dove è partito il procedimento bis sulla sicurezza della discoteca Lanterna Azzurra, dove morirono in sei proprietari e gestori verso il patteggiamento, a rischio processo anche il sindaco di Corinaldo. E le pagine 6 e 7 del Carlino di oggi sono tutte appunto per questo procedimento. Lanterna Azzurra, processo alla discotrappola, un po' di diligenza, sarebbero ancora vivi una quarantina le persone che si sono costituite parti civili nel processo bis, proprietari e gestori verso il patteggiamento. Il sindaco alla sbarra dice verità ad ogni costo, sono qui in prima persona per metterci la faccia e dare massima disponibilità e collaborazione alla magistratura, doverosa per raggiungere la verità, costi quel che costi. Rischia il processo il sindaco perché presiedeva la commissione di vigilanza che nel 2017 rilasciò l'autorizzazione per il pubblico spettacolo al locale. Se verrò rinviato a giudizio, dice ancora il sindaco, andrò a processo, preferisco affrontare il dibattimento, abbiamo tante cose da raccontare per aiutare gli inquirenti e raggiungere la verità. L'altra pagina è per Francesco Vitale, fratello di Benedetta, la quindicenne fanese morta appunto quella notte e a destra invece Giuseppe Orlandi, padre di Mattia, anche in questo caso un quindicenne di Fossombrone che non ce l'ha fatta. Per un risarcimento dovrà tenersi conto del fatto che i ragazzi non sono morti subito, potevano salvarsi, ma soprattutto quello che interessa le famiglie è la giustizia, non è il rimborso, non è il risarcimento, non sono i soldi, giustizia per mio figlio e per tutte le vittime, dice appunto Giuseppe Orlandi, mentre Francesco Vitale dice sono qui, l'ho promesso a mia sorella, è un giorno importante, lo aspettiamo da due anni. La pandemia trova ancora spazio sui quotidiani, Covid in laboratorio, gli 007 contro la Cina, i servizi segreti americani puntano il dito su Pechino in un loro report, tre scienziati infatti dell'istituto di ricerca di Wuhan ricoverati già nel 2019, anche se la Cina smentisce ancora una volta con vigore, ma i servizi di intelligence americani riportati dal Wall Street Journal confermano tre ricercatori del Wuhan Institute of Virology considerano il centro del primo focolaio del Covid, si sarebbero ammalati nel novembre del 2019, richiedendo ricoveri in ospedale, ma le autorità cinesi non ne avrebbero dato notizia all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Per Pechino il primo caso di contagio sarebbe stato invece riscontrato su un uomo, sempre a Wuhan, ma più di un mese dopo. La Commissione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ricorderete, spedita in Cina per investigare, ha concluso il suo lavoro criticando la poca disponibilità cinese alla condivisione dei dati, ma non rilevando nulla di anomalo o allarmante. Spunta però una dichiarazione rilasciata da Anthony Fauci l'11 maggio scorso in cui l'immunologo consigliere speciale prima di Trump e adesso di Biden sostiene che forse occorrerebbe indagare meglio sull'origine del virus e non si può essere certi fino in fondo che non sia sfuggito da un laboratorio. Ovviamente queste sono parole destinate a pesare e oggi con la tensione che sale anche nei rapporti tra Washington e Pechino per le rotte del Pacifico e sulla questione di Taiwan, sebbene gli scienziati nei due paesi propendano per la trasmissione del virus dagli animali all'uomo, la diffidenza comunque rimane. Ma soprattutto rimane perché? Perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità viene considerata troppo accondiscendente con i cinesi per essersi accontentata solo della loro versione dei fatti e questo ovviamente non aiuta alla trasparenza. Intanto il Covid-19 ha ucciso fino ad oggi 3.300.000 persone in tutto il mondo e 18 mesi dopo nessuno ha ancora stabilito con sicurezza la provenienza. Nelle Marche invece il Covid in tre settimane è cambiato davvero tutto. La frenata del virus nella nostra regione con la campagna vaccinale, con l'aumento delle temperature, quindi finestre aperte, l'aria che gira sicuramente molto di più, questo trend verso il basso è ancora più evidente se si prendono come misura di paragone le fasce di età dove sono stati riscontrati casi positivi dall'inizio di maggio fino a quattro giorni fa. E quali sono queste fasce di età, per esempio quelle tra i 14 e 18 anni dove il virus suona la ritirata è addirittura a meno 40%, insomma calano i contagi anche nella fascia di età scolare. Per l'appunto quei contagi che sono sono stati molto pericolosi diversi mesi fa per gli anziani e le persone fragili. Diminuiscono i positivi anche per chi ha 80 anni e 90 anni e in questo caso non può essere diversamente, l'effetto è quello della campagna vaccinale, cioè gli 80 anni e i 90 anni ormai sono quasi tutti vaccinati nella nostra regione, adesso non ci si ammala più o comunque se lo si prende, lo si prende stando a quello che dicono in maniera molto leggera, si evita l'ospedale. Si allenta la tensione, a proposito di ospedali, nelle strutture i ricoveri sono 205 in tutta la regione Marche, ci sono ancora però delle vittime, 3 e 58 casi registrati di positività con soli 1131 tamponi perché il fine settimana, la domenica soprattutto sappiamo che i tamponi sono in numero molto inferiore rispetto al resto della settimana. Intanto per quanto riguarda i vaccini, le vaccinazioni nelle farmacie, la formazione è quasi ultimata, entro luglio saranno 215, il dottor Meconi di Federpharma dice l'ipotesi è quella di affidarci a quello che ci affideranno praticamente una fascia d'età, quindi tutti quelli che per esempio avranno una certa età dovranno andare in farmacia, tutti gli altri negli hub vaccinali che più o meno adesso conosciamo tutti e si stanno aprendo un po' qua e là in giro per la nostra regione. E quindi si parla di queste farmacie, la formazione di questi 150 farmacisti, vaccinatori marchigiani, in tutto saranno 215 le farmacie dove si potranno fare i vaccini, ad Ancona 60, a Pesaro 50, Macerata 40, Ascoli Piceno 40 e Fermo 25. Chiaramente parliamo di provincia quindi anche le città che fanno parte di questa provincia. Rimanendo in tema sanitario, la pagina del Corriere Adriatico di oggi pubblica un elenco di 54 persone, 54 professionisti che sono usciti da un bando, sono persone dai quali poi bisognerà scegliere i direttori di area vasta. L'Asul ha pubblicato questo elenco di persone idonee, da qui usciranno i manager del centrodestra, il primo posto da ricoprire è a Fermo dopo la dimissione sorpresa di Livini, ma insomma sarà utile anche per le nomine prossime nel caso se ne dovessero fare. Sempre dalla regione, cercasi bestia per i social, la regione punta sul web, investe 283 mila euro, una gara d'appalto del SUAM per potenziare il posizionamento sulle piattaforme, in scadenza la collaborazione dell'esperto chiamato dall'ex presidente Ceriscioli e ci sono dei bei soldini perché insomma 283 mila euro, i canali da potenziare della regione sono Facebook, Twitter, LinkedIn, Telegram e YouTube dove insomma la regione cercherà di veicolare i propri messaggi. Ieri vi abbiamo fatto vedere nell'edizione delle 20 e 30 del nostro telegiornale quel video davvero incredibile, davvero scioccante di un lupo che azzanna un cagnolino, un cagnolino che si trovava lì con il suo padrone nei pressi di un laghetto. Immagini, dicevo, scioccanti vengono riprese in questo caso anche dai giornali, una notizia che trova spazio anche sia sul Corriere Adriatico di oggi che sul resto del Carlino. Il Corriere, lupo attacca e ferisce la cagnolina, agguato di giorno a Monbaroccio, il sindaco Petrucci dice specie protetta ma se ci fosse stato un bambino, è già perché è vero che i lupi non attaccano l'uomo ma l'uomo perché è alto insomma, bello identificabile. Un bambino rispetto a questo cagnolino non so se l'atteggiamento del lupo sarebbe stato lo stesso. Comunque Di Sante invece, Di Sante dice livelli di rischio alzati, gli agricoltori con licenza possono fare la selezione. Il Carlino, il lupo addosso, cagnolina salva per un pelo, scena da brivido in un lago di Monbaroccio, il Jack Russell femmina si getta in acqua per sfuggire, il padrone fa scappare il predatore. Riccardo, allora facciamo vedere i nostri telespettatori, quelli che seguono, sono tantissimi, la rassegna stampa del mattino, facciamo vedere quest'immagine, questo video originale ripreso dalla telecamera di questo agricoltore. Allora vedete in fondo l'agricoltore se ne sta per i fatti suoi sul trattorino, il lupo, il cagnolino si accorge che qualcosa non va e il lupo che lo risegue, vedete sulla parte destra del teleschermo, lo raggiunge, lo azzanna, anzi lo butta in acqua, ecco, e qui lo azzanna, vedete? Anzi sentiamo anche i guaiti del cane, sono terribili. Ecco questo è il momento in cui il lupo sta azzannando il cagnolino, lo porta su, in bocca, lo tiene in bocca, intanto il padrone si accorge, molla lì il trattore, sentite cosa dice. Vieni Margot, vieni qui, vai via, vai via, vai via, vai via, vieni Margot, vieni Margot, ecco guardate, si butta in acqua, lo va a recuperare, questa è una scena che non abbiamo visto nel telegiornale, guardate, guardate, l'è impaurito ovviamente il cane impaurito. Lui a questo punto, il padrone giustavente dice forse è meglio che io rientri, altrimenti facciamo una punta fin in due. Ecco, e poi la cronaca dell'ultima ora è che il cane è stato operato, è stato operato da un chirurgo, sta bene, è tornato a casa, ma se l'è vista brutta. Credo, dice Marco Diotallevi, la persona che appunto ha salvato la sua cagnolina, che il lupo abbia puntato la mia Margot almeno per un'ora e appena mi sono allontanato lui è partito alla carica, infatti quando lui si è allontanato a bordo del suo trattorino il lupo è entrato in azione, la cagnolina si accorta di questa cosa, ha tentato di fuggire, ma insomma non ce l'ha fatta ed è stata zanata, però poi alla fine insomma meno male che c'è stato il proprietario, il padrone che è riuscito a salvarla. Ora invece andiamo sul Corriere Adriatico, perché c'è una storia che pubblica solo il Corriere, è una storia che racconta Gianluca Murgia, una storia di stalking, noi quando parliamo di stalking siamo abituati a pensare al classico uomo disperato che non vuole e non si rassegna la fine di una storia d'amore e quindi tartassa, perseguita, stalkerizza appunto la sua ex compagna, in questo caso dobbiamo ribaltare tutto, è tutto al contrario. Qui stiamo parlando di una ragazza, di una bella ragazza perché fa l'ombrellina girl, quelle figure, quelle persone che tengono l'ombrellino ai piloti nel moto mondiale, questa ragazza che si è innamorata di un telecronista sportivo. Ora Gianluca non fa il nome di questo telecronista, ma insomma non è che sia un'infinità, quindi si fa presto, ma non ci interessa. La storia è questa, la storia è questa. È una storia che nasce nel 2016 sulle piste del moto mondiale, da una parte un'avvenente giovanissima donna che lavorava nei paddock come ombrellina, dall'altra un cronista del moto mondiale, molto conosciuto. Sembrava una favola, come tutte le volte sentiamo storie di stalking, tutto nasce, o anche peggio di violenza, ma tutto nasce come una favola che però poi si è trasformata in un incubo, tanto che tra i rimedi legali possibili si potrebbe arrivare ora a un ammonimento ovviamente per lei. Ora non vi voglio svelare tanto perché è bene ovviamente acquistare il giornale, comprare, leggere per chi è interessato la storia. Dico soltanto che lei che appunto non si rassegna al fatto che lui a un certo punto quando ha sentito parlare di matrimonio o cose di questo genere forse si è spaventato e quindi ha voluto distaccarsi, mollare un po' la presa. Lei non si rassegna e infatti inizia a contattare tutte le sue vecchie amicizie del moto mondiale per poterlo convincere a cambiare idea, ma il peggio deve ancora arrivare perché la donna la donna minaccia violenze, ti uccido, poi dice no, anzi mi uccido, insomma fa di tutto tutto su questa pagina del Corriere Adriatico. A pagina 9 invece del resto del Carlino c'è la pagina che riguarda il Tribunale di Pesaro, ci sono i colleghi che giustamente stanno lì per fare la giudiziaria, quindi raccontano quello che è successo nel Tribunale di Pesaro, tutti i vari processi in corso e quant'altro e allora oggi si parla di rapina altroni, una rapina che ci fu nel 26 novembre del 2018, uno ammette, l'altro no, il primo l'informatore patteggia due anni e sei mesi, il presunto complice è stato condannato a tre anni per il suo ruolo di basista, ma la banda è ancora ignota, i tre esecutori del colpo non sono stati mai identificati. Poi, psichiatra a processo, sempre dal Tribunale, psichiatra a processo per abusi, chiesti nove anni di carcere, Michele Fonti, 47 anni, accusato di atti sessuali con un minore, suo paziente, tredicenne all'epoca dei fatti e poi a Santa Marina Alta, cade nel pozzetto e si fa male, ho chiamato ma non lo riparano. La denuncia di una residente che ha subito avvisato l'Enel e a 13 giorni dal fatto il tombino è ancora lì rotto. La pagina di Fano del Corriere al via nella piazza le ricerche della Fano storica misteriosa, indagini della CNR con il georadar per rilevare i cunicoli sotterranei in previsione di scavi e poi la cronaca, schianto alla rotatoria, polligioni vanno in procura, ennesimo incidente fra due auto, settantenne portata al pronto soccorso. La pancia della città invece all'esame del georadar, campagna di indagine nel sottosuolo di piazza 20 Settembre per scoprire la Fano sotterranea, potremmo trovare le terme romane, ispezioni anche per ragioni di sicurezza, al termine avremo una mappa in 3D delle gallerie e dei cunicoli. Intanto la soprintendenza rilancia sugli scavi, proseguono i lavori dopo la scoperta dell'ala sinistra del Tempio della Fortuna all'ex Filanda. C'è ancora la questione dei parcheggi a Fano che tiene banco con le firme adesso raccolte per dire no alle strisce blu e quindi al pagamento del parcheggio e in via risorgimento posti off limits. L'area sarà chiusa per tre giorni per interventi che rientrano nel piano di valorizzazione. Sono previsti 88 stalli bianchi, quindi liberi. Da oggi a giovedì incluso saranno tappate tutte le buche che lo stabilizzano, scusate, con lo stabilizzato. Da settembre in poi invece verranno fatti gli altri interventi. Via del risorgimento dovrebbe essere quella strada vicino al commissariato di Fano. Poi a Sassonia c'è anche via Vincenzo Cecchetelli, una nuova intitolazione, ieri la cerimonia per questo cantante lirico fanese che ha calcato i più importanti teatri. Secessione invece, la secessione in Romagna. Oggi il giorno decisivo, voci di corridoio dicono che l'Assemblea darà seguito al referendum di 14 anni fa. Biancani insiste con una mozione e dice fermatevi. Dunque voci di corridoio lo sussurrano e oggi pomeriggio il Senato non dirà alla popolazione di Montecopiolo e Sassofeltro di votare una seconda volta per scegliere se andare in Romagna. Li manderanno direttamente in Romagna. Anche se chi votò in tal senso 14 anni fa magari è morto. Chi potrebbe votare ora all'epoca aveva solo 4 o 5 anni. Però la politica dovrebbe aver deciso. I due comuni possono lasciare le marche e andare in Romagna. Arrivederci. Poi Urbino. Traffico di coca e hashish al confine. La cronaca. Centinaia di cessioni presi quattro pusher. Carabinieri al lavoro tra gennaio e luglio 2020. Sull'asse Tavoletto Tavuglia la merce arrivava dalla Lombardia. Mentre sulla pagina della Val Cesano alle famiglie 100 mila euro per il sostegno anticovid. Il Banco Marchigiano eroga fondi alla fondazione di comunità Fano Flaminia Cesano. Quest'istituto di credito appunto il Banco Marchigiano ha assorbito la banca di Suasa e le sue 25 filiali. Quindi diciamo insomma 100 mila euro potranno aiutare più o meno 250 famiglie della nostra regione. Poi da Pergola. Pediatra. La sindaca. Grazie a chi si è prodigato. Ma Guidarelli e i consiglieri di maggioranza perplessi per le modalità informative. Andiamo a vedere l'altra pagina della nostra assegna stampa. Pagina 19 del Carlino. I posti non bastano più. Non sono quelli del cinema. Non sono quelli del teatro. Sono quelli del cimitero. Si allarga così. I cimiteri si allargano. Lavori per 740 mila euro nei camposanti di Colle del Metauro. 350 nuovi loculi. L'assessore dice anche in corso un piano d'asfalti. Interveremo su 6 chilometri di strade. Mentre da Colle al Metauro, Asili Nido, Iscrizioni al Via, tutte le tariffe. Si va da un minimo di 212 ad un massimo di 362 euro al mese. Pasti però esclusi. Mentre a Marotta, Spiagge Libere, Bagnini Avvisati, il Comune di Mondolfo mette a disposizione alcuni tratti del litorale. Poi l'ulivo della legalità ora è anche nel cortile della Scuola Media di San Lorenzo in campo. Andiamo invece a Senigallia. Lungomare Marconi senza auto. È una buona idea. Piace agli operatori. La chiusura al traffico sarebbe in vigore per tre mesi, dalle 18 fino a mezzanotte. Il nodo però dei posteggi. Al porto invece è tornato in funzione. Il travel lift, la gru, consente di poter sollevare e mettere in acqua le barche in sicurezza. La pagina di Senigallia invece è del Carlino. Radiologia, ma anche il tecnico. Tre giorni di stop. Ennesima dimostrazione della cronica mancanza di personale. Il CUP ha ricollocato chi era stato prenotato. Da sabato l'ospedale di Senigallia sarà, anzi è covid free. A Trecastelli, cani sequestrati, prime adozioni. Auto sul marciapiedi, ne ho patentato scappa. È finito davanti ad un locale, poi è fuggito, ma è stato rintracciato. È risultato positivo all'alcol test. Allo sport invece il Fano recupera Brero. Da oggi torna nel gruppo. Tampone negativo per il difensore colpito da covid è ora a disposizione. Tacchinardi potrà contare anche su Cagnoletti. Per lo spareggio di Imola, mentre la Vis ha scelto il tecnico, sarà l'ex del Como, Banchini. Il contratto biennale per lui, 40 anni di età, un campionato di Serie D vinto, frantumando record di punti, 89. E imbattibilità, 33 gare vinte. Poi però c'è stato anche un esonero. Però insomma, lui è originario del Pavese, sarà il nuovo allenatore della Vis. Mentre per sapere chi sarà il nuovo coach della VL, ci sono tre persone in pole position, tre per la panchina, sacchetti e favorito. Meo è la soluzione più probabile, anche se restano in piedi le piste che portano a Petrovic e a Dalmason in uscita da Trieste. Noi invece siamo in uscita dalla rassegna stampa. Prima però voglio ricordarvi gli appuntamenti del giorno. Alle 18 il rosario da Malta. E poi alle 21 un'intervista a Guarda Chi C'è con, stasera sarà l'ultima puntata di Guarda Chi C'è, con Veronica Berti Bocelli. È manager ma è anche moglie di Andrea Bocelli. Quindi l'appuntamento è dopo il Tg delle 20 e 30. Noi con la rassegna ci vedremo invece domani mattina, come sempre puntuali. Alle 7, arrivederci. Grazie. 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 Grazie.